Nella sala presidenziale dell'aeroporto dell'Havana, seduto accanto a Papa Francesco e al Patriarca di Mosca Kirill, c'era il Cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, che vediamo salutare il Patriarca e poi il Metropolita Ilarion. Il Cardinale e il Metropolita sono i tessitori del dialogo che ha portato allo storico incontro e il Papa li ha ringraziati nel suo saluto dopo la firma della dichiarazione comune, sottolineando che l'unità si costruisce nel cammino e che nell'incontro abbiamo parlato chiaramente senza mezze parole. Il Patriarca ha definito il colloquio una discussione fraterna e ricca di contenuti. Ne abbiamo parlato con il Cardinal Koch. Eminenza, lei ha assistito a tutto lo storico incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill. È stato davvero un dialogo tra fratelli con affetto ma anche con parole chiare? Questo si può dire. Era un incontro molto cordiale. Come ha detto Santo Padre, siamo rincontrati due fratelli correnti e hanno parlato tutte le cose che sono importanti in un'apertura e cordialità di fratellanza. È un incontro molto storico. La prima volta nella storia era importante di parlare su molte teme, tematiche. È necessario di approfondire. Non si parla ancora di un prossimo incontro. Alla fine il Santo Padre ha detto che vogliamo continuare questo dialogo e sono soprattutto il metropolitano Ilarione e io che dobbiamo continuare di approfondire e concretizzare questi dialoghi e alcune tematiche. Tra gli ostacoli al dialogo resta la questione ucraina. Quali passi si possono fare per attivare il dialogo tra la Chiesa greco-cattolica ucraina e la Chiesa ortodossa russa? Questo è veramente una problematica con molto molto ferite. Io penso si possa fare due cose. Il conflitto ha una lunga storia. Forse è possibile di fare un studio storico per una purificazione della memoria. Come il Santo Padre Giovanni Paolo II ha parlato molte cose che è necessario di fare questa purificazione della memoria e d'altra parte di forse avere una commissione tra ortodossi e greco-cattolici per trattare i problemi e tematiche che sono difficili. Sulla dichiarazione comune firmata il Papa ha detto è una dichiarazione pastorale. Quali punti vuole sottolineare? Penso il punto centrale con cui comincia già la dichiarazione è la situazione della persecuzione dei cristiani in tutto il mondo. Questa tematica sta molto a cuore del Patriarca, vuole fare molte iniziative per questa tematica, ma anche sta molto a cuore del Santo Padre. Il Santo Padre parla sempre del ecumenismo del sangue o dell'ecumenismo della sofferenza, che vuol dire oggi abbiamo persecuzione dei cristiani che non abbiamo avuto nella storia e i cristiani non sono persecutati perché sono cattolici, orientali, ortodossi, protestanti, pentecostali, ma sono persecutati perché sono cristiani. E dopo sono molte tematiche anche sulle relazioni tra la Chiesa cattolica e chiesa ortodosso russa, come vogliamo collaborare e dare una testimonianza comune sulla fede cristiana e sui valori dei cristiani. Alla stesura della dichiarazione ha lavorato il padre dominicano Giacint Vestivel, responsabile della sezione orientale del di Castero per l'unità dei cristiani, che ha accompagnato il cardinale da Cuba. Lo scopo è l'unità eucaristica, quello è veramente lo scopo di tutto questo cammino ecumenico. Vogliamo di nuovo, alla fine di questo cammino, essere capace di comunicare insieme allo stesso altare. Per questo il Santo Padre ha dato al Patriarca Kirill una reliquia di San Cirillo che è il simbolo, uno dei santi che è un simbolo della spiritualità che abbiamo in comune e anche della missione comune che condividiamo, vogliamo testimoniare insieme. Ma il Santo Padre ha anche dato un calice, simbolo di questo scopo del nostro cammino, che alla fine di questo cammino ecumenico è il ristabilimento dell'unità eucaristica tra di noi. Grazie a tutti.